La squadra di oggi è la squadra che si vuole vedere da qui e per le prossime 4 importanti sfide, volitiva, sicura di sé e finalmente concreta. Il 3-0 sull'alba longa dell'ex mister D'Adderio racconta pienamente quello che è stato all'acqua edotto nella gara valida per il 34esimo turno di campionato. Rosso-blu quasi costantemente nella metà campo avversaria, belle giocate, rapidità e aggressività per conquistare tre punti necessari, come li ha definiti a fine gara misteriolfo. Tutti ben oltre la sufficienza, dalla difesa apparsa solida alla linea mediana fino all'attacco. Sugli scudi San Rizzo, autore di una doppietta e inesauribile anche in fase di pressing costante. Squadra che inizia a impostare da subito e imporre il proprio gioco e dopo i primi tentativi in avanti arriva all'undicesimo, il gol che sblocca la gara. Non è nel suo repertorio ma San Rizzo trova di testa il gol del vantaggio rosso-blu con un'incornata precisa sul cross in area di Salata. Torres che continua a spingere al 21esimo, Piga trova la seconda, attraversa in due settimane e questa volta decisivo il tocco di Del Moro. Unico spunto pericoloso per gli ospiti è quello di Corsetti che non trova spazio per la conclusione in area quando siamo al trentesimo. Nella ripresa subito due cambi per l'Alba Longa ma è ancora la Torres a farsi pericolosa con un tiro a giro di Piga e poi con De Martis che colpisce male sull'assete dalla destra di Bilea. Sul prosiego dell'azione pericolosa l'Alba Longa con la doppia occasione sui piedi di Succi prima e Pellecchia poi ma Pinna e la Zazzara si immolano. All'undicesimo è decisiva la deviazione di Tore Pinna. Surra su terra di Pellecchia non solo perché la manda sul palo ma anche perché anticipa il tocco della corrente pace. Poi Gaetani a porta spalancata la manda altissima. Sono segnali positivi. Torres pericolosa poco dopo con la Zazzara. Alba Longa che prova ad alleggerire con conclusione dalla distanza. Controlla al lato Pinna. Al ventitresimo il gol che mette al sicuro il risultato. Palla in area di De Martis. Esce del moro con i pugni. Al limite arriva bianco. Controllo ed esterno destro preciso. Palo. Gol. E si può esultare tutti insieme. Squadra e panchina. Gol e vantaggio meritatissimi ma anche un sospiro di sollievo dopo tante giornate a mare. Al ventisettesimo ancora decisivo Tore Pinna nella deviazione di piede sulla conclusione ravvicinata di Paolacci e poi ancora una cannonata alta dell'Alba Longa. Un minuto dopo Serrizzo manda fuori di pochissimo. Viene esteso il rosso blu al ventinovesimo e sulla punizione De Martis manda alto. Ancora Torres in controllo della gara. Nessun patema e al novantesimo Bilea si procura un rigore su atterramento in area di Del Moro. Sul dischetto va Sarrizzo che insacca senza problemi per il definitivo 3 a 0. Un passo è stato fatto. La strada è ancora lunga ma lo spirito è quello giusto. Domenica si va a trovare la cenerentola del torneo Anzio. Anzio. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.